siamo oggi a roma alla camera dei deputati per inaugurare la mostra per l'anniversario dalla fondazione di ampas 120 anni di storia 120 anni di volontari e volontarie che accompagnano le nostre comunità il nostro paese negli eventi quotidiani e negli eventi straordinari che colpiscono appunto le nostre comunità abbiamo voluto con questa mostra non tanto è semplicemente raccontare un percorso storico di quello che è stato il lungo percorso di attività unitaria delle nostre pubbliche assistenze ma abbiamo voluto fermare attraverso delle immagini quello che gli occhi di volontari e volontarie delle nostre pubbliche assistenze nel quotidiano così come negli eventi straordinari hanno visto portano con sé magari per un'intera vita con grandi gioie e anche grande dolore per gli eventi più drammatici che il nostro paese ha vissuto è un momento bello importante che si colloca all'interno di questo 120esimo anniversario e che inizia da oggi e festeggeremo durante tutto il resto dell'anno insieme buon cento ventesimo